Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti quanti. Eccoci nella prima live del lunedì e parliamo questa settimana del capitolo 1092. C'ho qua la mia scorta di zuccheri, quindi non dovrei addormentarmi perché se mi viene un po' di abbiocco vado di estate e buon Natale. E ci siamo, ci siamo. Questo capitolo tra l'altro ha dei dialoghi anche abbastanza rapidi, non ci sono grosse cose impegnative su cui andare in maniera proprio profonda, profonda, profonda. Quindi probabilmente potremmo anche divertirci e dire quattro cazzate in compagnia. Ma, ma, come sempre, ciancio alle bande, cambiamo layout ed eccoci qua. Allora, eccoci qua. Tanto, scusate, ne approfitto per utilizzare Telegram e spammare la live sui nostri vari profili Telegram, così la possiamo vedere. Tutti quanti, nel caso, se ve la perdete, ma tanto se ve la state guardando non ve la siete persa, o se la vedrete indifferita e sapete già dove venirci a vedere, questa la potete vedere tranquillamente qua, abbonati al canale, o altrimenti nei prossimi giorni sul mio canale, segnale di fumetto. Quindi, se non la trovate qua, la troverete a breve, nei prossimi giorni, di là. Ciancio alle bande, iniziamo subito, 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 a parlare del capitolo 1092. Perché, pronti via, pronti via, e c'è il titolo. Il titolo che, in giapponese, suona così. Cosa significa? Perché, dappertutto, e sottolineo dappertutto, l'hanno tradotto come, in pratica hanno tradotto Boso come Rampage. Cioè, come l'incidente del, dell'imperatore, dell'imperatore, del tiranno Kuma, che si scatena nella Terra Sacra. È giusto, perché Bokun significa scatenarsi, perdere il controllo. Poi, però, c'è un problema. Enorme, gigantesco. Leggete il capitolo e non succede questo. Perché succede esattamente un'altra roba. Cioè, Kuma sale e poi corre via. Ci sono gli stronzi che provano a fermarlo, ma lui, tecnicamente, è là sopra, che sta correndo per andarsene. E, infatti, quel Bokun, Boso, dizionario alla mano, quel Boso ha varie letture. Boso si può leggere come? Guida imprudente, ma non sta guidando una macchina. Eccesso di velocità, ma non sta guidando una macchina. Corsa precipitosa. Perdita di controllo. Imprudenza. Dubito che sia l'incidente dell'imprudenza a Marie Joanne del tiranno Kuma. Perché ci sta abbastanza male. E non è un'imprudenza. Lui, fondamentalmente, è lobotomizzato ed è passato di là. Io ho messo fuga precipitosa per quello che succede. Quello è un adattamento. In realtà, potrebbe essere l'incidente della corsa precipitosa a Marie Joanne del tiranno Kuma. Cioè lui che passa correndo per andare da un'altra parte. Ho messo fuga precipitosa perché, anche a livello di contesto di quello che succede nel capitolo, che tiranno imprudente, esatto. Dopo essere diventato un lanciatore di aerei, un lanciatore professionista di aerei, vero Nox? E praticamente è anche un tiranno imprudente. Povera bestia. Un orso imprudente. Povera bestia. E ci sta anche con le tematiche nazionali che sono uscite nelle ultime settimane sull'orso imprudente. Ma vabbè, lasciamo perdere perché non è argomento e non è il posto per parlare di politica e cose del genere. Via. E quindi, perché nel capitolo c'è lui che si libera dalle catene e scatta in avanti, poi viene, vabbè, tranciato, bruciato, tutto quello che volete, corre in avanti e poi si spara via. Quindi ci sta l'idea di mettere fuga piuttosto di corsa. Anche se è un termine sbagliato perché è proprio un adattamento legato a quello che è il contesto della storia. Ciao Mac! Allora, scendiamo. Vabbè, le mini avventure con le remore lasciamo le perdere. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora. Sakujitsu Marijuaz. Questo Sakujitsu può essere letto anche, scendo qua, può essere letto anche come Kino. Kino vuol dire ieri. Però capita che a livello letterario, quando hanno voglia di fare quelli un po' più sostenuti, e lo segnino come Sakujitsu, perché a livello proprio di giapponese è un giapponese un po' più alto, nonostante poi i caratteri siano gli stessi. Ok. Mu teki do re, ku maga, ka e te kita. Molto semplice. Lo schiavo è insuperabile perché mu teki do re. Mu teki vuol dire che non ha nemici. Che non... teki è nemico, mu è una negazione, quindi che non ha nemici. Lo schiavo che non ha nemici, quindi una persona che non ha nessuno al suo livello. Ku maga, ka e te kita. È tornato. È ritornato. To to, no bo te kita. To to è praticamente, significa, ah finalmente. Tanti hanno detto, hanno segnato come, ah finalmente è tornato. Dimenticandosi completamente quel no bo te. Che è il verbo noboru che vuol dire scalare. A me è capitato nelle prime traduzioni inglesi con... Dove dice, ah finally he came back. Ok, he came back how, come direbbero gli inglesi. Cioè, come cazzo ci è arrivato qua? Noboru, i giapponesi lo dicono. To to, no bo te kita. Cioè, finalmente il to to dà proprio l'impressione dell'incedere. To to. Perché i giapponesi hanno alcuni termini onomatopeici per indicare anche il ritmo con cui fanno le cose. Per dire che per esempio una cosa viene fatta ma non troppo velocemente, ma comunque aumenta con un certo ritmo incessante ma lento, utilizzano il termine do do, che non è do do, quindi non vediamo righe bianche. Però, fa capire, sfruttando un'onomatopea, in maniera avverbiale, come è l'incedere di questo personaggio. To to, no bo te kita, dà proprio l'impressione di questo che ha fatto la scalata. Cioè, è venuto su in maniera incessante e finalmente è arrivato. Eshidomo yatsu to meru un dae. Già questo dae fa capire se uno non avesse, se uno lo leggesse solo dal giapponese, vi fa capire qua chi è che parla. Perché quelli che chiudono la frase con questo dae sono sempre i draghi celesti. Quindi già dalla battuta, anche se non li vediamo, sappiamo che qua sono draghi celesti che parlano e che infatti rispondono dicendo Soldati, fermatelo. Quindi, eshidomo, eshidomo sono i soldati. Yatsu o to meru un dae. Cioè, dovete fermarlo. Fermatelo. E fermate quel tipo. Però ovviamente, quel tipo risulta brutto, quindi fermatelo. E loro rispondono con to merarenai. Tomerarenai è una costruzione causativa, passiva. Cioè, scusate, è una passiva con il potenziale. Quindi dicono, non siamo in grado di fermarlo. Non riusciamo a fermarlo. E infatti lo vediamo. Cioè, loro sono lì con le catene che continuano a tenerlo. Quindi... Che va avanti. Ha fatica perché lo tengono stretto. Ma lui è lì, trick, 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 trick. Ciao Ravigi! E lui, se ci fate caso, a parte le continue scintille che si vedono in giro, lui non fa altro che ansimare. Quindi, anf anf a profusione. Infatti lo vediamo qua. Che io ovviamente, ma come tutti quanti, quando traduciamo gli ansimi, sono tutti anf anf. Perché nel mondo fumettistico è anf anf. O meglio, nel mondo fumettistico occidentale. Mentre nel mondo fumettistico giapponese, solitamente, anche in One Piece succede, quando iniziano ad ansimare, quando iniziano a avere il fiatone. Grande Dave, lo sapevo che coglievi. Grande. Grande Anto. Bravi, bravi, bravi. Lo sapevo che coglievate. E utilizzano sia anf anf, sia ha, che anche he, che praticamente fa capire quasi un tipo diverso di ansimare. Dipende sempre da, probabilmente, quello che o stava facendo, o anf anf è probabilmente quel ha, ha, è un ansimare mentre si fa un'azione. L'altro è un fermarsi ad ansimare. Qua. Doko e ikoto shiteimasu. Shiteimasu. Questo è un parlato. Per, ovviamente, sono dei balloon, quindi per forza di cose è un parlato. Però, da cosa si capisce che è un parlato e non uno scritto? Da quel shiteimasu finale, cioè... Ah, scusate, perché io ovviamente devo dare un'occhiata qua di fianco, perché ogni tanto mi rendo conto che sono troppo in basso per quello che si vede nella pagina. Anzi, facciamo una roba, scusate, eh. Faccio una cosa più che furba. Trick. Così. Così. Qua. Così, più o meno, vedo quello che vedete voi e mi giostro di conseguenza. Doko ka he, ikoto shiteimasu. Shiteimasu è praticamente utilizzato per il parlato, perché se fosse nello scritto sarebbe Doko ka he, ikoto shiteimasu. Però, essendo un parlato, quel i di imasu spesso viene troncato per diventare shiteimasu. Quindi, loro dicono, ha intenzione di andare da qualche parte? Non si stanno facendo una domanda. Non si stanno chiedendo dove ha intenzione di andare. Loro sanno che è arrivato lì, ma... E stanno dicendo, ok, è ritornato a casa. Non vuole arrivare, non vuole stare qua. Vuole andare da un'altra parte. Dove? Se lo chiedono. Ma non si stanno facendo una domanda. La costruzione non è quella di una domanda. Quindi, è quasi un... Ok, ha intenzione, quindi sta andando da qualche altra parte. E nel mentre si chiedono dove. E andiamo a vedere Ursus Kok. Quindi, anche qua, Kumano Shugeki. Quindi, il termine Ursus Shock, che è scritto qua in katakana. Ursus Shock. E in kanji, significa attacco e... Tecnica d'attacco dell'orso. Tecnica d'attacco dell'orso. Anzi, tecnica d'impatto dell'orso. Perché è una sorta di onda. E quindi è impatto dell'orso. Poi, vabbè, le urla le lasciamo perdere. E arriviamo con Master Akainu. Lui intanto continua a ansimare. Anfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfan. Arriva Akainu. E Akainu, come altri ammiragli, come altri personaggi, ha un modo di parlare molto, molto, molto... dialettale. Scusate un attimo, faccio una mossa. Tanto si vede quello che... Si vede una cosa. È che devo... Vedo che praticamente il mio microfono è troppo basso. Quindi, scusatemi, alzo il microfono. Ok. Ok. Perfetto, ci siamo. Scusate. Ho alzato un po' il microfono perché mi rendo conto che quando parlavo ero già... Ero troppo sul giallo e non ero sul rosso. Quindi qualcuno mi avrebbe detto... Stetti si sente basso. Ok. Andiamo avanti. Ma più che essere un buzzurro di borgata, lui ha un... Credo che abbia un... Utilizzi un dialetto del nord del Giappone. Adesso non so di preciso, quindi potrei tranquillamente avervi detto una cazzata. Però è un dialetto, è proprio un modo di parlare dialettale di un'area del Giappone. Tant'è vero che leggiamo quello che dice, dice... Non esiste in Giappone. È un modo di dialettare. Non esiste in Giappone. Non esiste in Giappone. Probabilmente è così. Non esiste in Giappone. Quindi che cosa stai facendo? Che diavolo stai facendo? Senjitsu. Senjitsu, quindi... Prima avevamo visto Saku-jitsu. Questo Senjitsu, dove Sen è il kanji di... Sen di Sensei. Quindi il kanji di insegnante. Senjitsu non è ieri. Perché in pratica Sensei... O Sensei, meglio tradurlo Sensei... Significa tipo... Colui che è vissuto prima. Senjitsu non indica ieri. Indica l'altro giorno. E quindi dice... Senjitsu no Kakumegeu ni Tsuzuki... E poi scendiamo... Rekishiteki na Hakaiji Kenja Zokuma. Qua... E... Proseguendo, cioè... Continuando... Suzuki... Suzuki... Non è Suzuki come la macchina, ma è Suzuki... Vuol dire continuare. Quindi dice... Continuando... Cioè questo è il continuo di quanto è avvenuto l'altro giorno con l'Armata Rivoluzionaria. Quindi proseguendo quello che è successo con l'Armata Rivoluzionaria l'altro giorno... Rekishiteki na Hakaiji Kenja Zou. Quindi questo... Cioè è una distruzione, è un evento distruttivo di portata storica. Rekishiteki, Rekishi, significa storia. Storia intesa non come narrazione, ma come storia dell'umanità, Rekishi. Rekishi, Rekishi, Teki. Teki è un kanji, è una parola che viene utilizzata per trasformare in pratica il termine, il nome, da sostantivo a tipo aggettivo. Quindi da storia a storico. E quindi dice... È un evento, perché Jiken non significa solo incidente, ma significa anche caso, evento. È qualcosa che è accaduto. Che cos'è accaduto? Hakai Jiken. Quindi è un evento distruttivo... Rekishiteki. Quindi Rekishiteki na. Quindi è un evento distruttivo di portata storica. Vero Kuma? E... Quindi in pratica stai dicendo... Ok, prima sono venuti i tuoi amici, erano per i coglioni. Adesso ti ci metti pure tu. Eh no. Eh no. Non mi sembra il caso. Scendiamo, scendiamo, andiamo a pagina 4. Allora, anche qua ci sono state delle traduzioni fatte un po' a caso. Le prime traduzioni qua sono state molto a caso. Perché? Perché questo combattente guarda Sakazuki e dice Sakazuki Gensui. E molte traduzioni che significa Grande Ammiraglio Sakazuki. Tanti praticamente hanno tradotto semplicemente come Grande Ammiraglio. No, lo chiama anche per nome. Sakazuki. Quindi, cosa importante, non lo stanno... A quanto pare non lo chiamano neanche più con il suo nome di battaglia. Cioè il nome da ammiraglio, Akainu. Ma lo chiamano Grande Ammiraglio Sakazuki. Quindi col suo nome originale. Vecchio cuore zio giù. Grazie per i 20 mesi. Vecchio cuore. E qua dalla pacca finisce per terra dicendo... Buu! Come già aveva un colpo di tosse. Correggiamo. Perché qua, quando ho fatto la prima traduzione, il balone era mezzo coperto. Poi. Tayorininaranheshidomodae. Come vedete è un drago celeste che parla. Quindi rivediamo il dae inteso proprio per mostrarci il drago celeste che parla. Tayorininaran. Tayorininaran è una forma contratta quasi volgare per dire... Tayorini naranai. Narimasen. Narimasen è la forma più educata, più alta. Tayorininaranai. Quindi... Tayorininaranai significa che queste persone non sono affidabili. Infatti dice... Tayorininaranai esci dae. Ma dae è il suo modo di dire da. Quindi sono soldati a cui non può essere affidato nulla. Inaffidabili. E poi abbiamo sempre il drago che però lo chiama con il nome di battaglia. Ayakainu. Sakoyanodinani. Lobstao. Somostanoni. Shinagireteattazo. Ciao Pierre. Ciao Pierre. Allora. Qua lo imbruttisce. Ayakainu. Anzi proprio urlando perché quella U aggiuntiva che vedete qua. Qua. Vabbè. Non si riesce. Non ci riesco. E questa U aggiuntiva dopo il kanji di Akainu in un U katakana. Fa capire che in pratica gli stanno urlando e stanno urlando il suo nome. Akainu. Che sembra tipo quelli che ti suonano, tu non rispondi e ti urlano dal piano di sotto. Durante la cena di ieri. Quindi. Sakoyanodinani. Dinner è dinner. Quindi inglese. Robustao. Shomoshitanoni. Quindi. Nonostante. Perché shitanonni. Nonni significa nonostante. Nonostante desiderassi. Shomosuru. Shomosuru significa desiderare qualcosa. O tipo mamma del sud che chiama il figlio. Sì esatto. Esattamente Pierre. Akainu. Oh. Nonostante desiderassi l'Aragosta. Shinagire teata. Quindi. E. L'oggetto. Shinah. Shinah è. Vuol dire oggetti. Vuol dire. Prodotti. Anche in alcuni casi. Merce. Shinamono. È. Tipo la merce. I prodotti. Shinagire. Shinagire vuol dire che è tutto esaurito. Shinagire teata. Quindi era tutto esaurito. Non c'era più niente. Quindi a questi non gliene frega una beata fava di niente. Che abbiano attaccato Mary Joise. A loro. Loro vogliono. Il cibo. Vogliono. Magna. E magna. Forte. Konnakoto wa. Ajimete da. Marijoua no shokuryoua. Donateru. Quindi. Konnakoto wa. Ajimete da. Quindi. Questa situazione. Questa cosa. Konnakoto. Koto. È. Un termine che indica proprio. Generalmente una situazione. Un evento. Questa cosa. Cioè come da noi. Sta roba. Per noi in italiano. Sta cosa. Ajimete. Ajimete vuol dire iniziare. Però quel kanji di. Ajimeru. Ajimete. È lo stesso kanji che viene utilizzato. Per esempio in Naruto. Per dire. Il primo kage. Shodaime. O kage. Perché è quello iniziale. In questo caso. Significa. Per la prima volta. Quindi una cosa del genere. È la prima volta. Che succede. Marijoua no shokuryoua. Donateru. Che cosa è successo. Che ne è. Degli ingredienti. Di Marijoua. E ovviamente. Akainu bellissimo. Perché proprio. Quando lo. Quando lo imbruttiscono. Lui proprio lì. Sta muto. Non dice niente. Bellissimo. Oii. Soretto koro janai. Ua chiki wa. Ima. Kegashita so. Ima ya. Dore no bonzai no. Bokun kuma o. Ayaku shokue surue. Quindi. Andiamo giù. Dopo che. Il nostro Akainu. Li ha ignorati. Bellamente. E dice. Soretto koro janai. Quindi. Non è questo il punto. Non è questa la cosa importante. Tokoro è. Un luogo. Significa proprio. Luogo. Ma. Quando si parla di qualcosa. Quando c'è un dialogo. Tra due persone. Soretto koro. O. Soretto direttamente. Viene utilizzato. Per indicare. La cosa. Appena detta. Quindi. Questa cosa. Ma non è tanto. La cosa appena detta. Grazie kei. Vecchio cuore. Vai di 35. Vamonos. Ma non è questa la cosa importante. Ma non è questo il punto. Wachiki wa. Wachiki è. Watashi. Però ovviamente. Loro parlano in maniera diversa. Watashi wa. Ima. Kega oshitazo. Quindi. Io adesso. Sono stato ferito. Cioè. Non è il fatto che non c'è cibo. Non è il fatto che non c'è cibo. Mi hanno ferito. Mi ha ferito lui. Ima ya. Dore no bunzai no boku no kuma o. Hayaku shokesurue. Andiamo. Sul verbo. Hayaku. Shokesurue. Shokenisuru. Che significa. Condannalo a morte. Alla svelta. Esegui. Alla svelta. La sua condanna a morte. E. Di chi la condanna a morte. Esegui subito la condanna a morte. E poi torniamo al ballon precedente. Quindi. Ora. Esegui subito la condanna a morte. Di kuma. Il tiranno. Bunzai. Dore no bunzai no boku no kuma. Cioè. Esegui immediatamente la condanna a morte. Dello schiavo. Di colui che è soltanto uno schiavo. O. E. Di. Come posso dire. Di kuma. Il tiranno. Che è considerato. Che è al pari di uno schiavo. Quindi qua l'abbiamo. L'abbiamo tradotto. Sfruttando un po' le virgole. Dicendo. Esegui la svelta. La condanna a morte. Di kuma. Il tiranno. È soltanto uno schiavo. E poi. Scendiamo con l'ibruttenza. E mi piace. Tantissimo. Vedere. Quanto è incazzato. A kainu. Perché. Si vede che non ci voleva andare lì. Si vede che fosse per lui. Gli avrebbe già dato fuoco. A tutti quanti. In rp. Oi. Anzi. No. Kuma. Di solito. Gli altri personaggi. L'avete visto anche prima. Qua. Andiamo su. Oi. A kainu. Qua. No. Kuma. Quel no. È uguale al. Oi. Senti. Oh. Ascolta. Ko chide. Segui o de kin na ra. Ko chide. Significa. Da questa parte. Segui o vuol dire controllare. Quindi. De kin è la contrazione di de kin ai. Quindi. E non ara viene utilizzato in pratica per indicare un. Una condizione. Quindi. Se da questa parte non siamo in grado di controllarti. Quindi. Se noi non riusciamo a controllarti. O mai mi. Sì. L'hanno un po' sfasato. O mai mi taina. Mi te. L'hanno proprio. Come l'hanno. Vabbè. O mai mi taina yatsu. O mai mi tai. Abuna shi. Abuna shi yatsu a. Perché li hanno. Li hanno. Li hanno. Scasinate. Li hanno. Scasinate. Li hanno invertite. Vedete qua. Ve lo faccio vedere. Qua. No do cazzo vai. Dove cazzo vai. Qua. Vedete che. Un po' la frase. Un po' i punti. I kanji. Sono sfasati. Perché. Per divertirsi. Hanno esattamente. Shiftato della roba. Bastardi. Maledetti. Per fortuna. L'avevo già tradotto. Ha ha ha. Qua. Ku. Wa. Aspettate che. Ritorno a rimpicciolire. Qua. Qua. O mai. Mite. Qui. Mite na. Abuna shi. Abuna shi yatsu a. Quindi. E. Un individuo. Abuna shi. Abuna shi. Significa. Instabile. Cioè. Una persona. Qua. Abuna shi. No. Era. Abu. No. E' diverso. Abubana shi. Abuna. Ok. Vabbè. Abuna. Abuna shi. Ok. Ad ogni modo. Era. Persona. Inaffidabile. Era. Persona. Inaffidabile. Quindi. Visto che lui. Ha perso il controllo. E. Perché mi. Gimbizzi. E' bello. E. Praticamente. Dice. Visto che. Uno. Come te. E' una persona. Senza controllo. Controllo. Ah. Abunatsuka shi. Perché era girato. Che Dio gli strammaledica. No. Banashi ni wa. De kinzo. Quindi. Non posso lasciare. No. Banashi. Significa. Lasciare libertà. No. Banashi. Ni. No. Banashi ni wa. De kinai. De kin. Quindi. Non sono in grado di. E. Di darti. E. Maggiore libertà. Di darti troppa libertà. Ji ga wa. To ni. Ki et ta a zu. Quindi. Il tuo ego. La tua personalità. E. Dovrebbe essere stato. Cancellato. Ki et ta a zu. Dovrebbe essere stato cancellato. To ni. Da tanto tempo. Da tempo. Quindi. Mi dice. La tua personalità. Tu non dovresti avere personalità. Tu sei qua. Come. Una sorta di morto. Shin in mo. Do se no ma e ga. Quindi. Persino una persona. Che ha lo stesso livello di un morto. Che è uguale a un morto. Come te. Do ko i ko chun ja. E qua. I ko chun ja. E. I ko tzu chun ja. In pratica. Gli sta dicendo. I ko tzu mori. In pratica. Gli sta dicendo. Dove hai intenzione. Di andare. Anche un morto come te. Dove diavolo ha intenzione. Di andare. E la risposta. Dopo. Di. Di. Kainu è. Meigo. Meigo. Che abbiamo già visto varie volte. Che significa. Mastin. Cane infernale. Dove. Il primo me. È. Lo stesso me. Utilizzato. Per. Meio. Meo. Che è il re degli inferi. E anche. Plutone. Come pianeta. E. Go. È un kanji. Arcaico. Per intendere cane. Perché. Il cane è. Ma è un altro kanji. Mentre qua. È il kanji. Un po' più arcaico. Per dire. Cane. Mastino infernale. Andiamo a pagina 6. Acceleriamo. 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 Icoma eni. Chi wa. Nagare. Noi o. Già. No. Quindi. Icoma eni. E. Intende proprio. Come prima. Hai. Ancora un po' di sangue. Nelle vene. Il sangue. Chi wa. Nagare ru. Yoni. Youja. Sembra che. Il sangue. Comunque. Continui a scorrerti. Come prima. Poi. Vabbè. Ma te. Kuma. Ma. Quindi. Gli sta urlando. Di fermarsi. E abbiamo. L'incontro. Tra. Kuma. E. La. 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 La piccola bimba. Che secondo me. Continua ad essere. Una bambina. Ikura. Oetemo. Kuma. Jiga. Wa. Mou. Modoran. E. Qua è. Akainu. Che gli dice. Anche. Puoi abbaiare finché vuoi. Hoeteru. Hoeru. Significa abbaiare. Infatti. C'è il kanji di cane. E. Il. Il kanji di. Hoeru. Che è questo qua. Che è questo qua. è il kanji di bocca con il kanji di cane. Quindi abbaiare viene segnato come la bocca del cane. Ikurao. Temo. Quindi. Puoi. Puoi abbaiare finché vuoi. Ma. Ormai. La. La personalità di Kuma non tornerà. Yatsu wa shigan shite. Sento heikini umare kawatta. Offrendosi volontario. Perché. Yatsu wa shigan shite. È una forma sospensiva. Ti lascia appeso. E ti dice. Nonostante lui. Cioè. Lui sia offerto volontario. Ed è. Rinato. Umare kawaru. Significa che. È nato. Cambiato. Umare significa nascere. Kawaru. Vuol dire cambiare. Umare kawaru. Vuol dire che. È rinato. È. È cambiato come persona. Ed è diventato. Un'arma da battaglia. E ovviamente. Bonny. Che continua a urlare. Uso tsuke. Shiken. Shigan nante suru wakenai daru. Atashi o oite. Sonnakoto suru wazu ne. Quindi. La prima parte è. Stai mentendo. Uso tsuke. Uso tsuke. E. Uso. Vuol dire è una bugia. Uso tsuke. È colui che dice una bugia. Shigan nante suru wakenai. Non c'è pezza. Cioè. Il suru wakenai. Uwakenai. Intende sempre. Qualcosa tipo. Ma non c'è pezza. Ma non c'è storia. Ma non è vero mai nella vita. Che si sia offerto volontario. Shigan nante. Serve proprio per dare un accento forte a quello shigan. Cioè. Ma non è possibile. Ma mai nella vita lui si sarebbe. Si sarebbe offerto volontario. Atashi o oite. Quindi. Lasciandomi qui. Oku vuol dire lasciare qualcosa. Lasciandomi qui. In questo caso. Abbandonandomi. Sonnakoto suru azne. Non avrebbe mai fatto. Una cosa simile. Lasciandomi qui. Ricordatevi sempre che. In giapponese. I verbi vengono sempre dopo. Quindi in questo caso. Anche le frasi principali. Rispetto alle subordinate. Quindi. Quelle che. Stanno in piedi da sole. E non hanno bisogno. Di. Una frase a cui agganciarsi. Sono. Vengono sempre dopo. Sono sempre le ultime frasi all'interno del contesto. Della. Della frase più lunga. E la prima è una frase subordinata. Quindi una frase che in piedi da sola. Non ci sta. Atashi o o ite. O ite. La forma in te ha sempre bisogno di qualcosa dopo. Quindi dice. Lasciandomi qui. Sonnakoto suru azne. Quindi. Non può aver fatto una roba del genere. Non. Non avrebbe mai fatto una roba del genere. Lasciandomi qui. Abbandonandomi da sole. Abbandonandomi. Torino gashita no ka. Gensuitomo aromono ga. Doko ikonja. E questi sono i draghi che lo imbruttiscono. Torini gashita no ka. Perché poi. Dov'è che c'è scritto il? Oi kuma. Oi. Kuma wa. Doko da e. Ehi. Dov'è orso? Dov'è finito orso? Torini gashita no ka. Te lo sei lasciato scappare? Gensuitomo aromono ga. Eppure. Eppure tu sei il grande ammiraglio. Sei a kainu. Sei l'essere più importante all'interno della marina. Quindi. Te lo sei lasciato scappare come un. Un poppante. E questo è uno dei. È. Importante. È una persona importante. E ovviamente a kainu se li caga neanche di striscio. Doko ikonja. Ishimo. Kokoromo. Subitei. Ushinatta. Ningyo gaio. Doko ikonja. Dov'è andato? Cioè proprio. Dov'è sei andato? Ishimo. Kokoromo. Nè. E anzi. Sia in questo caso il cuore. Sia la volontà. Ishì è volontà. Kokoro è cuore. Subitei. Ushinatta. Ningyo gaio. Ningyo ga. In questo caso è ningyo da. E quindi è. Sei un. Una bambola. Che ha perso tutto. Sia il cuore. Quindi kokoromo. Ishimo. Quindi sia la volontà. Quindi tu non dovresti avere né volontà né cuore. Però ti muovi da solo. Che diavolo sta succedendo? Dove stai andando? Poi. Scendiamo. Shinsekai e Goedo. Quindi Nuovo Mondo e Gerd. Shibist Weapon o Gekia Seyo. Qua è un imperativo. Annientate. Distruggete le Shibist Weapon. E sparano. Altro imperativo. Fabio Feizu e Joriku. Shimau Tokyo Senkyo Seyo. Approdate al Fabio Feizu. Quindi non viene messo il verbo suru dopo Joriku. Quindi sarebbe stato Fabio Feizu e Joriku Seyo. Quindi approdate al Fabio Feizu. Occupate l'isola. Taisho Kizaru ha Kumono Un. Kumono Ue. Labo Feizu e Totsuniu. L'ammiraglio Kizaru Totsuniu Suru. Ha fatto irruzione nel Labo Feizu sopra le nuvole. Tashkani? Ah no. Qua abbiamo già Kizaru. Tashkani. Kizaru Yabutau Toko. Quindi. Sicuramente sei quello che ha menato Kaido. Yaburu vuol dire rompere. Picchiare. Sconfiggere. Quindi qua abbiamo Kizaru che dice. Beh dai. Sicuramente sei quello che ha sconfitto. Sicuramente sei quello che ha sconfitto Kaido. Tegowaine. Quindi anche qua lo continuo a prendere per il culo. Sei davvero temibile. Shkashi. Kaizoku no ma esanga. Vega punk uomo morte no ha. Do yu ha kedai. Anche qua. Dai. Finale. Intende un altro tipo di dialetto di un'altra zona. Molto probabilmente Oda ha cercato di ricopiare, riprendere quello che erano i modi di parlare oppure i dialetti locali degli attori che danno il volto e il fisico a questi personaggi di One Piece. Quindi Akainu con Bunta Sugawara sarà di una zona e Kizaru, non mi ricordo il nome dell'attore che interpretava Borsalino, è in un'altra zona e via discorrendo. Oh sei davvero terribile. Però Kaizoku no ma esanga. Vega punk uomo morutte no ha. Il fatto che un pirata come te stia proteggendo Vega punk, do yu ha kedai. Cosa significa? Per quale motivo lo stai facendo? Solo a Kuchiga Kikiteyo? Quello? Lo vorrei sapere, te lo volevo chiedere io, vorrei chiedertelo io. Vorrei saperlo io, vorrei sentirlo io. Eh sì, lavoro minuziosissimo su queste cose. Per Nandè, Nandè, allora Nandè è un altro modo di dire Nandè. Perché? Cioè, in realtà Nandè, messo letteralmente, significa con che cosa? Nandè. In questo caso è più un... Perché? Perché voi volete ammazzare il vecchio Mela? Ringo no ossan. Ossan intende proprio una persona anziana. Perché? Perché volete seccare una persona anziana? E Kizaru che risponde? Koroshte wake... Probabilmente la frase originale è... Koroshte wake ne... Cioè, koroshtai wake janai o wake ganai. Cioè, io non ho alcuna intenzione di ucciderlo. Non avrei alcuna intenzione di ucciderlo. E poi qua è... Eccolo qua. L'altro modo di dire amf amf. Prima abbiamo visto... Qua invece mettiamo se... Se... Perché? Non è un momento... Un momento orgiastico. E quel se... Se... Dà l'impressione che... Stia sfiatando. Stia cercando di sfiatare. Mentre anf... Anf... Ha... Ha... Può essere utilizzato anche per... Questo suono. Cioè, il suono di aspirazione. Se... Se... È un suono... Di... Espirazione. Perché... È difficile fare un suono di aspirazione... A bocca aperta... O comunque un suono di aspirazione... S... Con... Un suono simile al... S... Al sibilo. A meno che uno non abbia problemi di asma. Ma quello è un altro problema. E... E quindi è... Ha... O... Ha... Ha... In questo modo, come aspirazione, come... Uno che sta aspirando una quantità d'aria immonda... E... S... S... Anche a livello di suono, sentite che è differente. Posso fare ASMR... Fare... Ha... Ha... E... Ha... Ha... Sentite che... Anche il suono che fa... Sia l'aspirazione... L'inspirazione... Che l'espirazione è differente. Uno è un suono più aspirato... L'altro è un suono più sibilato. E anche qua viene reso uguale. Ha... Che... Ha... È in espirazione. Rende... Ha... Esatto, Pierre. Ma non mi vedrete mai nudo. Ha... 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 E poi andiamo... E... Il se... È proprio come vi dicevo... Il suono di espirazione. E... Do come le tonda Dove Fin dove è volato Dove è volato via Poi questa scena è bella Perché Kizaru prima Gli inizia la frase Ma va a casa di Dio Ok Nella frase successiva Parla ad un tono più basso Perché lo vedete che qua Il Il font È un font grosso È un font più grosso Anzi come diceva Sio Grosso più grosso E E quindi si vede che sta volando Il problema è che non ha finito la frase Perché L'ha iniziata ed è andato là E poi lui la finisce Parlando normalmente Ma il problema è che è là Sta parlando Cioè Questo rincoglionito Sta parlando da solo a casa del diavolo Ok Cioè va a casa di Dio E parla da solo È bellissima sta roba Perché lui è convinto Di essere ancora lì A parlare E Il problema è che Il suo corpo ha Agito più velocemente Rispetto alla sua testa Quindi Quando ha detto Non vorrei È là E poi quando ha finito la frase Era là Ma Oramai Tardi E Io non vorrei ucciderlo Però Però Cioè Io non ho La minima Esatto Non fa tempo A cambiare tono Esatto Io vorrei Non vorrei ucciderlo Vegapunk Vegapunk to Nagae Nagae Tsukiai Cioè È da tanto tempo Che mi conosco Con Vegapunk Che ho Che conosco Vegapunk Tsukiai Vuol dire Conoscere Naga Nage È La La versione Più Come posso dire Quasi grezza Ma Lo vedete anche Nell'altro modo Che dice Korošte Wakene Lui ha questo modo Strascicato Di parlare Perché Le allunga Tutte Proprio perché È un gioco E Anche grafico Per far vedere Che lui Nonostante si Abbia la velocità Della luce Fumettistica E È quello che Parla Il suo cervello Reagisce Ad una velocità Molto inferiore Ha dei problemi Di Non dico Di ritardo Però Sicuramente Non è una persona Che brilla Per Rapidità Di 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 parola E magari Anche di Esternazione E quindi dice Scusate Momento Zuccheri Perché sennò Mi La gola Mi ha Bisogno E quindi Lui le pronuncia Tutte Tutte lunghe Non vorrei Non vorrei Ucciderlo Vegapunk To Quindi con Vegapunk Nage Nage Tsukiai Conosco Vegapunk Da Tanto Tempo Dakara Jamashine Dekure Anche qua Continua a livello Grafico E Quello che è Il suo modo Di strascicare In giapponese Sarebbe Dakara Cosa significa Visto che lo conosco Da tanto tempo E lo diceva prima Per favore Levati dei coglioni Non rompere le balle Non stare in mezzo Jama Jamashimasu Vuol dire tipo Mettersi in mezzo Essere d'ostacolo Non ostacolarmi Però il Jamashimasu Jamashinai Dekure È Molto Molto Volgare Molto strong Come modo di dire Quindi gli sta dicendo Beh quindi Vedi di non starmi in mezzo Alle balle Non rompere le balle Kasoku A Chikara E c'è proprio Il momento dove Kasoku A Quindi Dà il tempo E poi chiude Con una parola secca Di un Solo kanji Rapido da dire Quindi Kasoku A Chikara E Ha il momento di Di rush E lo vediamo Inizia Dicendo Kasoku A E si vede che si sta Gonfiando Comunque sta entrando Nel bagliore di luce E poi Accelera Istantaneamente Quindi Nel momento in cui dice Chikara È già partito E pianta il Chikone A A Rufi Scendiamo 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 Qua Vabbè Le urla Le lasciamo perdere Dekita 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 Dekiru Vuol dire Riuscire Ma Dekiru Dekimasu In questo caso Dekimashita O Dekita Viene utilizzato Quando viene Ultimato qualcosa Quindi Dice L'ho finito L'ho finito Ho finito Il Vega Force One Giroino Yume Chiodai Robo Quindi Il Robo Gigante Chiodai È Gigantesco Il Gigantesco Robo Sogno Dell'umanità Giroino Yume Il Sogno Dell'umanità Poi Vabbè Le urla Per il volo Le lasciamo perdere Le esplosioni Le lasciamo perdere Rufi Andiamo giù Anche qua Di nuovo Con lei Che ansima Ovviamente Nigerenja Quindi Fuggite Vegafossuanga Quindi Gli tronca la frase Non è ancora riuscita a finire Di spiegare Che il Vega Force Sta per esplodere Che gli esplode Nei denti Appena dietro Chikujo Washiranoyume Vegafossuanga Chikujo È Merda Proprio Merda Chikujo Washiranoyume Il nostro sogno Vegafossuanga Quindi Il Vega Force One Il nostro sogno E poi c'è C'è qualcosa dopo Che non è stato inserito Probabilmente è Fukitobasu Fukitobasu Vegafossuanga Quindi Chissà se la Sunny È illesa Bugi È Viene utilizzato Sia per gli oggetti Sia per le persone Non ti posso perdonare Non ti posso perdonare Se la Sunny Non è A posto Cioè Parle dicendo Non ti perdonerò mai Ma la Sunny È a posto E E poi risponde E dopo Sempre lì Gli dice Mugiwara Ga Fukitobasa Rettaso Cioè Cappello di paglia È stato fatto volare via È stato fatto Sì È stato fatto volare via Fukitobasa Rettà Fukitobasu Vuol dire Far volare qualcosa Quindi Cappello di paglia È stato fatto volare via Chiaro È una costruzione passiva Suona Pesantissima Mentre L'ho voluta Girare in attivo Anche seria Passivo Perché è molto più leggera Ha fatto volare via Cappello di paglia E Piuttosto che Cappello di paglia È stato fatto volare via Poi vabbè Kizaru E temè Maledetto Kizaru Sì 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 Più per terra Che per mare La Sunny Vediamo se comparirà anche qua Il Club Outerman Speriamo di no Zibun Okikunattane Boni Saiki no koa Sei ciuga Haee Allora Zibun È tipo Di recente Ultimamente E Cioè Ti sei proprio Fatta grande Ti sei proprio Diventata grande Boni Sunny Sanikun Esatto Saiki no ko wa Se ciuga Haee Quindi Che suona molto Alla Alla mic Buongiorno Haee Saiki no ko Recentemente I bambini I bambini Recentemente Quindi i bambini Di oggi Se ciuga È veloce È veloce È rapida Questa è la traduzione Letterale Mettendola un pochino Meglio Diventa I bambini di oggi Crescono davvero Velocemente Sono Crescono Ma Tanto Velocemente Guarda Gino Allora Io E Questa La prendo Come E Come Boni Che sia più giovane È più piccola Secondo me Non hai 24 25 anni Che dimostra O meglio Capiamoci Boni Per ora Ha sempre Mantenuto il dubbio Perché non l'abbiamo vista Come anziana Connie L'abbiamo vista Come la madre Di Kuma Ma bisogna vedere Se si è spacciata Come la madre Di Kuma O se È realmente La madre di Kuma Ma noi sappiamo Che è la figlia Di Kuma Quindi Non mi stupirei Che realmente Lei sia Molto più giovane Non dico Che da 20 Bisogna arrivare Una bambina Di 5-6 anni Però Che da 20 Ne abbia 12-13 O 15 Non mi stupirebbe Bellina come costruzione Fa troppo ridere Uranderudaro Uranderudaro Omae no kiraina Dottor Vegapunk Vegapunk Uranderudaro Stai provando Rancore Quindi Non dovresti provare Rancore Non stai Provi ancora Rancore Per lui Non dovresti Provare Rancore Omae no kiraina Doctave Vegapunk Nii Massatsu Mere Ga Deta Deta Vuol dire E' uscito Quindi dice E' uscito L'ordine Ho ricevuto L'ordine Di assassinare Massatsu Mere Massatsu E' Un termine Per indicare L'eliminazione Totale L'eliminazione Definitiva Sterminare Eliminare Cancellare Assassinare Mi piaceva un sacco Quindi ho preferito Quando c'è Satsu Qua io ho sempre Mantenuto assassinare Perché Mi piace di più Ho ricevuto L'ordine Di assassinare Il tuo Tanto Odiato Il tuo Odiato Dottor Vegapunk Ecco qua L'obiettivo Quindi L'avversario L'avversario Che dovrei Prendere di mira Nurao vuol dire Prendere di mira Nurao L'avversario Che dovrei Prendere di mira E' cambiato Kawatanda E' diverso Toshitsuki Toshitsuki E I kanji Sono diversi Rispetto a quello Che è il reale Significato Di Toshitsuki Tsuki E' giusto Ed è il kanji Utilizzato per gli affondi Affondi Come dicevo Già ieri sera Nella Nella Fatal Dove Si possono fare Sia di pugno Quindi l'affondo E' un pugno Diretto Sia con gli oggetti E possono essere Delle lame Dei bastoni E sono Gli zuchi Sono degli attacchi diretti In questo caso Lei sta utilizzando Un pezzo di Di cavo elettrico Preso dal robottone E Sta provando a colpirlo Come Prosecuzione Del suo corpo Toshi Significa Impronta Della morte Ma Toshi Come lettura Non di kanji Ma Proprio del termine Toshi Significa anni Quindi In pratica E' Affondo Dell'impronta Della morte Dell'imprinting Della morte O Affondo Degli anni Perché lei Quando colpisce Cambia l'età Del suo avversario E qua Abbiamo Il momento Statale Perché Gli ammiragli Hanno tutto Tutti Il loro Momento Statale Al di là Dei miei obiettivi A parte i miei obiettivi A parte i miei obiettivi A parte i miei compiti Non voglio fare del male Non voglio ferire Quelli che conosco Non farmi ferire persone che conosco E infatti Poi gli tira un calcione Che la spara via E la fa detonare Infatti Franky dice Oh da quella parte Guarda che c'è E poi non fa in tempo Che Pi 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 E Franky Che chiama Bonnie E Franky Che insulta Kizaru Dicendo Temè Che di solito E' Maledetto Sta per lanciare Un ready call Vim Ma si ferma Perché non c'è più E andiamo a pagina 15 Quindi Prima La pagina prima Della splash page Eh Do kodà Chietà Edo è finito E' sparito E' sparito Non è una domanda E' sparito Masaka Steragabunai Ah ho capito Capito Masaka No in realtà E' impossibile Non è possibile Stella è in pericolo Masaka Non è possibile Correggiamo Correggiamo Non è possibile Stella è in pericolo Quindi in teoria Era lì da loro E cercava di bloccare loro E' andato via Mojimo Shireshitsu Quindi Pronto Stanza di comando E lo dice Ad altissima voce Flavofes Shireshitsu Franchi BGK Quindi Franchi Tutto a posto Saki Sochide Bak Daibak Hatsuga Quindi Da quella parte Prima C'è stata una Grossa esplosione Tutto a posto Stai bene Franchi E E ovviamente Abbiamo Vegapank Yatta Kodogato Keta Yatta Che tanti Anche Gabri Ha Adattato Come Eureka E' proprio Un urlo Di Ce l'ho fatta Proprio Un urla Di gioia Quando riescono A fare qualcosa I giapponesi Solitamente Urlano Yatta Perché Fanno capire Che ce n'hanno fatta E Yatta Dice Onto Davvero Mitaka Yoku Visto York E anche Qua Come prima Dov'è 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 Bonnie Che diceva Dove sei Che vuol dire Merda No Perché Yattaman E' del Del famoso anime Intanto Ha la A Lunga Quindi non è Yattaman Ma è Yattaman Ma Quello Yatta E In realtà Sarebbe Yatter E' il Loro Modo Di dire Yatter Man Poi Non ho idea Di cosa sia Lo Yatter Perché io Yattaman Non l'ho mai Non l'ho mai Visto Però in teoria È Yatter Man E siamo E qua E qua dice proprio Chiquisho Invece che Chikusho Però Sempre merda è E sempre merda resterà Konotensai Taci Quei Geni Non maledetti Geni E detto ogni tanto Mi capita di Di dimenticare Perché È maledetti Geni E non maledetto Genio Perché qua c'è il termine Tensai Che vuol dire Genio Taci Quindi è un plurale E poi c'è quel Me Quindi Tensai Taci Me Vuol dire Maledetti Lo sta insultando Malissimo Maledetti Proprio Maledetti Geniacci Franky Esattamente Sì 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 La Tatsunoko Lo fece E Franky Posso Sciogliere La barriera Sono in grado Di sciogliere La barriera Quindi La barriera Hakobeta Siete riusciti A portare Dietro A portare Dalla parte opposta Dalla parte dietro Il vega Frosuan E la nave E poi arriva Borsalino Borsalino Che dice Da Da Shutsuke Kakua Shippaida Vegapunk Yumeno Chiodai Robo Fukitonjimau Daione Daio Quindi dice Il piano Di fuga È fallito Ormai non puoi più andartene Il tuo piano Il tuo progetto Il tuo piano Di fuga È fallito Vegapunk Yumeno Chiodai Robo Quindi Il robot Gigantesco Dei sogni Fukitonjimatta Fukitonjimatta Si Significa Cioè Si legge La contrazione Di Fukitondeshimatta Cioè Purtroppo È saltato Per aria Quindi Il tuo robot È purtroppo Perché Shimau Shimatta È un Un verbo Che significa E Alla fine Succede qualcosa E Quindi Quindi Solitamente Ha bisogno Di un verbo Che lo sostenga E significa Proprio che Alla fine È successo Qualcosa Il problema È che Quello Shimatta Shimau Viene utilizzato Anche per Indicare Un momento Di 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 Dispiacere Lui si sta realmente Dispiacendo Dicendo Guarda Mi dispiace Però Purtroppo Il tuo robot Dei sogni È esploso Mi dispiace Quasi Quasi Non l'ho Fatto Apposta Vabbè Qua Cerca di capire Cerca di capire Cerca di capire Dal mio punto di vista Quindi Watashi Da te Kitsuinim È un compito Pesante È un compito Impegnativo È un compito Gravoso Nakabi Nagabi Kasetakunai Nagabitasetakunai Non voglio Tirarla Per le lunghe Non voglio Che tutta Sta situazione Vada Per le lunghe E qua Un pelo Di barba Abbiamo Rufy Che risponde Mentre sta tornando Mentre è tornato Su Gya Ite Poi c'è la risata Ah Chia 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 È la sua risata Non come è capitato Ieri sera Con Dado Che l'ha preso Come un Ai 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 No Non è messicano E scendiamo Nell'ultima pagina Qua Qua abbiamo Ovviamente Abbiamo Vegapunk Che urla Eh cosa Qua Deca Deca Corega È successo È apparso Che si è apparso Ma quello Cioè lui non l'ha mai visto Sta cercando di capire Cosa stava succedendo E poi Yokumo Stamade Tobashte Koretana Nikaimo Bariatotte Shinukato Omotta Quindi Abbiamo il momento Del robottone Che si Risveglia Allora Qua Si chiude il capitolo Torniamo 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 Qua A dimensione Normale Voi Quindi Veniamo un attimo Un momento Per voi Pubblico Avete qualche domanda Avete qualche dubbio E Volete parlare di qualcosa Poi io andrò a letto Così posso dormire E ho finito anche Tra l'altro ragazzi Una roba Perdonatemi Un pelo di dissing Perché Perché le Perché le cannucce Di cartone Capisco Che Adesso Come adesso Le cannucce Devono essere Biodegradabili Ma esistono anche Le plastiche Biodegradabili Il cartone Se mi si bagna Questo Io non riesco più Ad aprirlo Il L'estate Mortacci Quindi tutte le volte Che Che apro Che vado al cinema Tipo Che prendo qualcosa Da bere Mi devo prendere Due cannucce Perché la prima Si scioglie dentro La coca cola Mortacci Vostri Allora Joe Mac Intanto benvenuto Visto che è il tuo Primo Messaggio Allora Hai visto quanto È allungato Rufi E E Storto Kizarun Kizarun Nella mano gigante Quanto è allungato E storto Kizarun Nella mano gigante Di Rufi Si 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 Ma in realtà Allora Tu conta Adesso Torniamo Torniamo Qua Qua Cioè Tu conta Che Abbiamo praticamente Rufi Che è tornato In versione Cartone animato Quindi Deforma Sempre i corpi Con cui viene a contatto E quindi Nel momento in cui Lui è lì A contatto con Kizaru Lo sta tenendo Stretto E Per forza di cose Kizaru Sembra più lungo Perché Veramente Cioè Dove inizia Kizaru Cioè Dove Inizia il corpo Di Kizaru E E le ginocchia Dopo C'è tutto il resto Del corpo Quindi Dal mignolo In poi No Ok Fermi Qua Fermo un attimo Dal mignolo Di Rufi In poi E Partono le ginocchia Di Kizaru E quindi Cioè Dalle ginocchia In su E tutto quello Che è dentro Al corpo Di Che è dentro Al corpo Alla manona Di Di Rufi Implica Che Lui non può Trasformarsi In luce In luce Non è detto Non è detto Perché Vediamo Che L'attacco Di Rufi Tecnicamente Non è In Non sta utilizzando L'Aki La mano è bianca Quindi O questa tavola Verrà modificata Perché può capitare Verrà modificata In sede di uscita Del capitolo In In volume E O verrà modificata In volume Con la mano Che diventa nera Quindi si vede L'Aki O altrimenti Utilizzando il suo potere Lo sta E lo sta gestendo In pratica Che ci può stare Ci possono stare Entrambi Sì 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 Ma bene o male Tutto il combattimento Tutti i combattimenti Di Rufi Adesso Sono combattimenti Che sembrano Venuti fuori Da Da Tom e Jerry Quindi Sì 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 Sembra una roba Veramente Cartunesca Adesso Poi 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 Qua Vorrei vedere Nika che combatte Con i guanti Che interagiscono Con la luce Giusto per ridere Quello non credo Che lo vedremo Ma per un motivo Perché Rufi già utilizza Lucky Quindi Fondamentalmente A lui non servono Lui la Lui la luce La sta già toccando E la sta già Acchiappando Quindi Niente di che Per lui sa Utilizzare bene Lucky Quello serve A Frankie A Usop A personaggi Che non hanno Lucky O comunque Non l'hanno sviluppata A pieno Eh sì Vedere Kizaruti In versione Mosca È carino Fa ridere Anche se un po' Dispiace Sì Fa ridere Allora Ragazzi Io Direi Che Con questo Vi posso Salutare Vi lascio A breve Perché Secondo me Il re Dovrebbe Se non ha già iniziato Dovrebbe iniziare Abbastanza A breve Fatemi vedere Eh Sì È in live adesso Per la question and answer Quindi Io vi saluto E vi mando Di là Dal re In live Su Youtube Quindi Andate Andate E divertitevi Di là Dal re Su Youtube Ciao Belli